Sono stato ben lieto di essere venuto qui a Roviano a partecipare, a ricordare Remo Grisanti con il quale ho avuto modo di lavorare a cavallo degli anni 80 e primi del 90 e una particolarità di Remo che è riuscito a lavorare con tutti noi mancori Siamo tanti, siamo veramente tanti, Varo, Nemo, Sandro, io, Adriano, Mario, dimentico anch'io